Salve a tutti quanti, oggi faccio un tutorial di un programma che pulisce bene il sistema operativo di Windows abbastanza a fondo, per adesso secondo me è il migliore che ho trovato perché ne ho provati diversi e non è che mi hanno soddisfatto più di tanto. Questo è un semplice programma che c'è la versione sia installabile che portatile come vedete io qua sono già nel sito del pcrestore.it sulla versione portatile, pronto da scaricare la versione è Privyzer portatile, eccolo qua, adesso eccolo qui qui qui, automaticamente bisogna scaricarlo e io gli dico scarica. Si apre la finestra superiore dello scaricamento, aspettiamo un attimo che si scarichi e poi lo andiamo a cercare nel download dove mi mette tutti i miei programmi che scarico per arrivare a questo sito bisogna scrivere Privyzer portatile 4076 in automatico dovrebbe arrivare qua. Basta scrivere questa frase qua e poi andare a cercare il sito dove c'è scritto portatile. Normalmente dovrebbe portarvi qua. Se non vi porta dovete cercare poi la versione portatile. Chiudiamo questa finestra, andiamo nel download, perfetto il programma è questo unico, vi raccomando di creare una cartella che io ho già creato qua sul desktop e nominarla con il nome. e all'interno metterci il programmino. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché quando io lo faccio partire lui mi crea poi un file di settaggio che mi va a mettere su nella cartella. Se voi lo lasciate in giro per il pc questo file ve lo mette in giro anche lui e poi non è facile poi a trovarlo. Così almeno si trova. perchè se non c'è quel file tutte le volte che lo fate partire vi chiede i settaggi. Adesso vediamo i settaggi. Adesso faccio partire. ecco adesso in questo momento qua ho la versione pro versione versione pro. Qua bisogna andare a mettere la lingua andare a trovare la lingua italiana oppure dalla lingua dove voi siete. Qua siamo in Italia metto la lingua italiana. Vi dico di sì. qui e lui mi ha messo come avete visto mi aveva messo un registro. Io adesso lo rifaccio ripartire. Allora qua non bisogna mettere nulla. Utilizza queste file ok. Secondo me non mettere nulla. lì diciamo avanti. In questo caso che tipo di utente siete. Utente base. Io lascerei utente base. Non mettere upente esperto. e li diciamo avanti. Qua ci chiede. Elimina collegamenti. Io lo lascerei in questo modo. Avanti. qui mi dice a ogni pulizia. Di pulire anche. Cioè di buttare tutto nel cestino. Quali direi sempre di sì. Office. Se adoperate Office. Se volete mantenere i vostri file in memoria. Lasciate no. Se non adoperate Office. li dite di sì. Io adopero Office. E li dico di no. A seconda vostra scelta. Normalmente. Se adoperate questi programmi. Dite di no. O se no. Li dite di sì. Io lascerei no. Qui è giusto. Rimuovi tutte le memorie che c'è. Delle cartelle. eccetera eccetera. Lascerei sì. Qui anche sulle fotografie. Non mi interessa. Che mi rimangono in memoria. Direi di sì. consiglia per la private zero. Io lascerei no. Come di default. Qui se andate in internet. E volete che vi mantenga tutti i passaggi che volete. li dite di no. Se volete cancellare la cronologia. Che di. Insomma di internet. Li dite di no. Io lascerei no. Così almeno. Se andate su un sito. basta scrivere la prima lettera. Lui automaticamente si ricorda. Direi avanti. qui. Qui lascerei sì. Si raccomanda. Si. Si rimuove tutto. Si. Così lo fa in automatico. Qui li direi di no. Si lascia stare. o se no. Se volete lasciate sì. Io lascio come di default. Perché non è che mi interessa granché. qua è dei giochi. Se giocate. Qua è dei giochi. Se giocate. Dite di no. E se no. Li dite di sì. Io lascio no. Qui metto sì. Così risparmio. risparmiare. Un sacco di spazio. Così lui fa la sua pulizia. Qui è raccomandato. Perciò se non siete esperti. Li dite di sì. Consiglia e possibilità di risparmiare sì. Ok. In questo momento. qua si dice ok. Non si mette niente. Li diamo nuovamente ok. E li diamo nuovamente ok. Ecco. Lui nella prima finestra. Qua chiudiamo. Nella prima finestra. Ci fa vedere questa opzione. Noi vogliamo la finestra pro. Qui ci sono gli hard disk. E noi clicchiamo qua sopra. E ci apre tutta la finestra pro. Qua. Maman che va avanti. Vi dice cosa sta facendo. Per il resto. Qua nei settaggi. Non toccare nulla. e li possiamo dire scansione. Adesso ci vuole un po' di tempo. e aspettiamo che termini tutto il suo lavoro. Se non è mai stato fatto il tempo aumenta. Poi dipende sempre dal tipo di computer che avete. microprocessori. Io avendo un computer abbastanza obsoleto. E va leggermente più piano. Prossimamente. Io aumenterei poi la velocità. Di registrazione. Per fare poi il tutorial. leggermente più corto. Ecco. Adesso ci chiede se vogliamo farlo normale. Veloce o turbo. Io lo farei in turbo. Così ci mette meno tempo. Tanto il lavoro è lo stesso. In questo momento ha finito. Questo è lo spazio libero del vostro hard disk. Allora. Se volete mantenere questa versione free. Non fate nulla. Chiudete poi le finestre. Se invece volete la versione pro. Adesso andiamo a vedere la versione pro. Questa è una versione che si paga. Clicchiamo. Qui parla di 49 euro. Potete scegliere. 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 Scegliere il tipo di pagamento. Cioè. Questa è il prezzo di base. Clicchiamoci sopra. Volendo. Uno. Può anche offrire. Invece di 42 euro. Potrebbe offrire di più. Oppure potrebbe offrire 10. 10. Licenza per un pc. Con 10 euro. Con 10 euro. Avete la licenza. Per un pc. Qui. Dipende poi a voi. Se volete farlo o no. Io mantengo la versione. Free. Solo che questa versione. Pulisce. Leggermente. Un po' di più. Beh. Qua. Dipende voi cosa volete scegliere. Io ve l'ho fatto vedere. Chiudiamo. Chiudiamo qua. Chiudiamo qua. Come avete visto. Lui ha creato un'altra cartella. Dove ha messo tutti i suoi dati. Ecco. Questi sono i due file che lui crea. Un file qua. E un file dalla cartella. Se io la prossima volta li clicco sopra. Lui si apre direttamente. Non mi chiede. Più nulla. Perché. Privatzer. Punto ini. Ce l'ha. Qui. Li posso dire. Avanti. Ok. Qui. Ricomincia. Se lo dico. Ricomincia nuovamente la sua scansione. Questo io ho terminato. Questo piccolo programmino. Semplicissimo. E fa. E fa veramente. Il suo dovere. Io. Almeno. Mi trovo. Bene. Grazie a tutti. Ciao ciao. Ci sentiamo alla prossima.